Un intervento importante e anche sostanzioso perché sommano due interventi, uno da 360 mila euro che era stato portato avanti con un bando a fine dello scorso anno, sempre un bando del mio assessorato che si era giudicato il Comune di Mondolfo per una parziale sistemazione della scoglia della zona centrale di Marotta. A questo invece oggi succede un nuovo finanziamento più sostanzioso di un milione e mezzo che noi come Regione Marche abbiamo avuto a ristoro delle mareggiate avvenute nel 2019 e questo milione e mezzo abbiamo deciso di riversarlo su Marotta di Mondolfo perché c'è questa esigenza che è stata fatta presente ormai da tempo dall'amministrazione comunale di Mondolfo e è stata seguita dagli uffici della Regione Marche già da tempo. Quindi un milione e mezzo più 360 mila e ora arriviamo a un milione e nove quasi di intervento che di fatto andranno su un progetto redatto dal Comune di Mondolfo che andranno a manutentare quindi a risistemare le scogliere già esistenti. Quindi non si parla di nuove scogliere, le scogliere già esistenti che sono scogliere soffolte che si sono degradate nel tempo come normale che sia e non garantiscono più la difesa di quel tratto di arenile, di spiaggia. A questo punto con questi lavori noi riportiamo quelle scogliere diciamo la loro fase iniziale quindi le ristoriamo, le sistemiamo e credo che facciamo un buon servizio per tutto il litorale di Marotta e per tutta l'attività balneare e turistica che svolge su questo e quel territorio. Sono lavori molto importanti di difesa della costa, in particolar modo si interverrà sulla zona centrale del lungomare di Marotta per circa due chilometri, un finanziamento significativo di un milione e 960 mila euro e quindi un intervento senza precedenti per il nostro territorio. Ci tengo a ringraziare la regione Marchi, in particolare l'assessore Aguzzi per l'attenzione costante ai problemi annosi dei comuni costieri marchigiani, un fenomeno quello erosivo di cui abbiamo risentito tanto come territorio e quindi serviva un intervento a tutela delle attività degli operatori turistici e balneari di Marotta e Mondolfo.